Mister domani subito in campo, un Villanova che viene da tre vittorie, ma più caldo da tre partite convincenti, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Domani quindi bisogna continuare così? Sì, io valuto la prestazione al di là del risultato, sono state tre buone prestazioni e dobbiamo continuare così, con questa mentalità, poi il risultato è sempre frutto di episodi, per cui se noi giochiamo come abbiamo dimostrato di saper giocare, ovviamente degli episodi possono essere solo che positivi. Domani un Sambuceto che è comunque una buona squadra, riduce anche da una bella vittoria domenica scorsa. No, no, ma tanto noi partita in partita per noi sono tutte partite importantissime, sono tutte finali, se vogliamo puntare a qualcosa di importante. Ovviamente più si gioca e meno probabilità di avvicinarti lì sopra, però fino a che la matematica non ci dice il contrario dobbiamo sempre provarci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.